Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com. Nella giornata di martedì l'Italia rimarrà ancora esposta ad un flusso di correnti fresche ed instabili in discesa dal nord atlantico che rinnoveranno ancora a condizioni di spiccata variabilità, soprattutto su Alpi, Prialpi, Alta Valpadana, Dorsale Appenninica e sulle regioni meridionali. Ma andiamo con ordine iniziando come sempre dalle temperature minime che saranno in generale diminuzione da nord a sud dello stivale con valori decisamente freschi per il periodo, soprattutto al nord-ovest. Per quanto riguarda le massime, queste saranno in calo al sud con valori più freschi sul medio-basso vessante adriatico, mentre avremo un generale rialzo sulle regioni centrosettentrionali. Ma entriamo quindi nel dettaglio previsionale per il nord che vedrà, come dicevo poc'anzi, nuvolosità irregolare soprattutto nelle ore pomeridiane dove non mancheranno piogge sparse e rovesci da anche qualche temporale, soprattutto sui rilevi alpini e prealpini, ma che a tratti potranno sconfinare fin verso la Valpadana. Ci spostiamo ora alle regioni del centro che vedranno condizioni meteorologiche analoghe, con maggiori spazi soleggiati in prossimità dei settori costieri, mentre maggiori addensamenti si concentreranno al pomeriggio lungo la dorsale appenninica con il rischio di rovesci ed anche di qualche temporale. Maggiore instabilità infine sulle regioni meridionali, soprattutto sui settori peninsulari, con piogge e temporali sparsi, soprattutto ancora una volta al pomeriggio, mentre avremo maggiori schiarite sul settore centro-occidentale della Sicilia, ma soprattutto sulla Sardegna, fin dal mattino. Vi aspetto come sempre per aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com.